Gossip, Melita Toniolo Ottavo mese di gravidanza, tutti i dettagli sul parto Gossip la showgirl e modella Melita Toniolo è pronta a diventare mamma del suo primo figlio. Sarà maschio o femmina e come si chiamerà? I fan vogliono restare aggiornati e conoscere tutti i dettagli sulla data del parto. Il compagno della bella Melita è il comico Andrea Vigano in arte Pistillo. Sarà un maschietto e si chiamerà Daniel. Il piccolo dovrebbe nascere a dicembre e l'ex diavolita ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha ricordato il suo passato in tv e ha parlato delle gioie della gravidanza. Gossip Melita Toniolo mamma tra pochissimo, il parto è previsto per dicembre. Chi è Melita Toniolo? Il suo passato televisivo ci ricorda Lucignolo. Ma a sentirlo nominare non è entusiasta. Ha affermato, a vent'anni mi sono sentita intrappolata in un'immagine di donna sexy e volgare, in cui non mi riconoscevo. Ho sofferto a lungo di crisi d'ansia. Tuttavia lei ha sempre incarnato il modello di donna sensuale, ma tale immagine evidentemente non rispecchiava la sua identità. Ai tempi di Lucignolo andavo avanti come un treno ma ero in riquieta. Convivevo con il mal di stomaco e collezionavo una storia infelice dietro l'altra, ha raccontato. Gli uomini confondevano diavolita con la vera Melita, in tv mi offrivano solo ruoli sexy. Per questo ho chiuso con certi programmi e mi sono buttata sulla comicità. Melita ha partecipato alla terza edizione del reality La Talpa, al Grande Fratello 7, ha condotto Metropolis, programma comico, e recitato nella sitcom Medici Miei. Melita Toniolo incinta, vita privata, matrimonio con il fidanzato dopo il parto?. Melita ha raccontato anche del suo incontro con il fidanzato Andrea Viganò. Dopo il momento difficile passato ai tempi di Lucignolo, ha iniziato a guardarsi intorno e si è diretta verso una dimensione totalmente diversa, ovvero la comicità. Ed è proprio in questo ambito che ha conosciuto il compagno. Per quanto riguarda il matrimonio, per adesso non sembra essere nei suoi pensieri e progetti. Tuttavia non lo esclude. Gossip Melita Toniolo gravidanza agli sgoccioli. Per adesso è senza dubbio concentrata sulla nascita del piccolo Daniel. La 31N Showgirl mostra intanto il suo pancione su Instagram. Commenta con un semplice numero che la separa dalla nascita di suo figlio, meno 54. I fan commentano così, una delle più belle. Anzi, per me sei la più bella. Auguri. Virgola sei bellissima o un pancino tondissimo, ecco la vera sensualità di una donna complimenti, mamma mia, sei davvero meravigliosa complimenti. Grazie a tutti.